Ciao ragazzi bentornati, bentornati in un nuovo video, bentornati sempre qui con il vostro Marco Verdoliva e le mie bellissime perle soprattutto in queste occasioni di avvenimenti che brullicano che di hype come sapete ogni anno cerco di evitare di fare video dedicati o così a presa diretta su quelle che sono le presentazioni del CS perché sinceramente aspetto sempre un po' di tempo di riorganizzare le idee prima di dirvi la mia e ovviamente oggi vedremo proprio alcuni punti chiave di queste prime giornate, queste giornate di eventi con le nuove presentazioni che sono state fatte da AMD, Nvidia e Intel ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto ok per non perdervi tutti gli altri miei video e seguite ovviamente tutti i link in descrizione perché c'è anche il nostro bellissimo e utilissimo canale Telegram delle Offerte MV Hardware Offerte dove ancora potete riuscire ad accaparrarvi qualche componente come ad esempio anche le schede video ogni tanto le postiamo allora non mi perderò molto in chiacchiere abbiamo visto tante cose belle, tante cose utili e abbiamo visto anche tante cose meno belle e tante cose inutili e ovviamente quando parlo di inutilità e soprattutto di pagliacciate il pensiero va sempre e comunque a una cosa in particolare, a un'azienda in particolare invidia, ma vedremo dopo nel dettaglio una delle presentazioni secondo me interessanti ma non la più interessante sicuramente è stata quella di AMD perché dopo averci fatto il pippone per quasi metà presentazione sui nuovi Ryzen 6000 mobile che per carità saranno delle ottime ottime CPU e si presentano come dei prodotti eccezionali quindi chi è in cerca di un portatile occhio a questa nuova linea perché finalmente hanno mandato a cagare Vega ce la siamo tolti dai coglioni Vega integrata e sono passati sulle nuove CPU RDNA che sicuramente ci dà un boost prestazionale anche sulle APU quindi sui portatili non indifferenti state comunque sempre nell'ottica che stiamo parlando di portatili quindi dispositivi che devono consumare poco e che quindi ovviamente hanno come loro prerogativa a base l'efficienza e non la potenza bruta inoltre è stato presentato anche il nuovo 5800X 3D ovvero con la nuova tecnologia di 3D V-Cache in cui parleremo in un video dedicato ovviamente sembra un po' che Intel e AMD da questo punto di vista facciano a gara a chi ce l'ha un po' più lungo mentre uno supera l'altro l'altro mette la briscola da sopra quindi Intel con i 12.000 adesso esce AMD col 5800X 3D Intel a sua volta ha presentato un 12.900KS quindi siamo là che si rincorrono per avere il processore più potente del mondo in gaming e questa è una cosa che ci fa piacere perché diciamo tra questa battaglia fra le due parti a noi ci arriva solo roba diciamo discretamente buona e soprattutto sono stati intravisti i nuovi Ryzen 7000 almeno non hanno fatto vedere un cazzo hanno fatto vedere niente hanno fatto vedere solo il socket e la forma del processore quindi li vedremo più avanti nel corso dell'anno è stato detto seconda metà del 2022 e avranno ovviamente il nuovo socket AM5 con LGA supporto alle DDR5 tutti i cazzi e mazzi quindi vedremo poi quando sarà il momento parleremo anche di queste nuove CPU ma la cosa diciamo interessantissima come poteva mancare una nuova GPU sul mercato perché già ne abbiamo tantissime da comprare la 6500 XT che è una scheda video ovviamente di fascia bassa parliamo che il suo prezzo MSRP sarà sotto i 200 dollari ma io ho uno spoiler per voi probabilmente questa scheda la vedremo al doppio almeno penso intorno alle 400 euro sul mercato cioè dal lato delle schede video di fascia bassa possiamo dire che AMD effettivamente non aveva quasi niente in quella fascia di prezzo quindi ci può stare che abbia presentato una scheda video di fascia bassa dobbiamo vedere poi diciamo che performance anche perché paragonarle a RX 570 schede video di 5 anni fa o altre schede vetuste non è che ha molto senso vedremo un attimino questa scheda cosa può dare sul mercato io non è che sono diciamo molto preso da una scheda video del genere però in questo momento può essere una scheda che può tornare utile a molte persone come vi dicevo se da un lato AMD ha presentato il nuovo 5800X con tecnologia 3D V-Cache dall'altro lato ovviamente non poteva mancare Intel che oltre ad aver presentato vabbè tutta una serie di processori che chiudono la line up dei 12.000 quindi tutti i processori lisci i 5, i 3 e tutte quelle belle cose là se ne è uscito con un 12900KS sulle orme del vecchio 9900KS non è altro che un 12900K boostato quindi sarà qualche chip binnato che riesce a raggiungere i 5.5 GHz su un solo core e i 5.2 GHz su tutto il resto dei core ora non abbiamo visto su questo canale il 12900K probabilmente lo vedremo più avanti ma sappiamo benissimo che è un processore che consuma e scalda un bel po' per essere diciamo il top di gamma di tutta la line up è un processore che richiede molta corrente cioè abbastanza e soprattutto un ottimo sistema di dissipazione quindi io non oso immaginare un 12900KS dal punto di vista diciamo dei consumi ok? delle temperature cosa di cui a me piace sapete mi piace pugnalarmi proprio con queste cose non ho idea che cosa possa venire fuori da una CPU del genere ma sicuramente voglio dire un prodotto che non ci dispiace cioè sono tutti prodotti che in questo momento sul mercato non è che ci dispiacciono più di tanto ma il vincitore il premio per il mongolino del CS lo diamo sicuramente a mamma invidia non per fare la solita retorica o per fare le solite lamentele però sicuramente la presentazione di invidia è stata forse in assoluto ok? la più ridicola perché innanzitutto poca roba hanno parlato di cose interessanti sicuramente hanno parlato dell'aspetto ok? dell'intelligenza artificiale applicata a tutta una serie di settori hanno parlato della guida autonoma hanno parlato di cose che effettivamente sono interessanti e possono in qualche modo interessare anche in generale non solo il pubblico consumer ma anche un pubblico più elevato e questo non è male ma dal punto di vista nostro personale quelli che siamo come dire quelli che cacciano i soldi e che comperano i prodotti abbiamo sul mercato due nuovissime bellissime schede video la 3050 questa scheda video con 8 giga di ram che avrà un prezzo probabilmente a partire dal 300 dollari e sul mercato se la vedremo arriverà a oltre 500 euro che sinceramente è una scheda video di cui non sentivamo affatto né il bisogno né l'utilità cioè e soprattutto che cazzo di scheda video è e a che prezzo ce l'ha buttata sul mercato che hanno appena lanciato la 2060 12 giga e questa scheda probabilmente è una scheda che in performance andrà super giù tra una 2060 e una 2060 super forse con l'aggiunta del ray tracing e soprattutto il prezzo ma l'apice del diciamo del ridicolo si è avuto quando per 10 secondi hanno fatto vedere la 3090 Ti hanno fatto proprio così mentre quello stava parlando diceva ah poi abbiamo anche la 3090 Ti questa è la nuova scheda avrà tot tuta corra avrà tot giga di memoria e teraflop e capocce ottima ciao e l'hanno posata cioè proprio di sfuggita abbiamo anche la 3090 Ti eccola qua e la buttata in eccesso perché sinceramente è la scheda video più inutile in questo momento da presentare perché voglio dire già la 3090 è una scheda che costa ormai oltre un altro poi 3000 euro sul mercato si trovano a dei prezzi assurdi stanno proprio fuori di melone in ogni situazione è la scheda più veloce più potente anche per il gaming a 24 giga di RAM di VRAM ok l'hanno presa hanno aumentato un po' le prestazioni delle memorie hanno sbloccato qualche CUDA in più e hanno fatto la 3090 Ti che costerà 4000 5000 6000 non si sa quanti cazzo di euro costerà ok invece di parlare decisamente e in maniera seria un attimo di quello che potrebbe essere o dovrebbe essere l'andamento del mercato delle forniture magari di schede video e di questa situazione globale di shortage che ormai da due anni ci sta rompendo i maroni continuo a ripetere che comunque bene o male anche in quest'anno le schede video si troveranno e si intravederanno proprio adesso mentre sto registrando c'è stato un drop ok su LDLC di schede founders quindi sicuramente qualcuno di voi sarà riuscito a prenderle e ovviamente noi in questi mesi parleremo di tutto ciò e faremo mano a mano tutta una serie di video sul mio instagram vi ho inviato un paio di storie cercherò di essere più presente su instagram lo so ragazzi perdonate ma io non riesco a stare dietro a tutto e tra l'altro ci sono vi ho chiesto una serie di consigli anche riguardo a degli argomenti che vi potrebbero piacere riguardo i video la nuova line up di indella è interessante spero di portarvi presto il 12400f su questo canale e per il resto ragazzi che dirvi rimanete collegati qui su mv ardu e noi ci vediamo presto in un nuovo video ciao ciao